Salve a tutti, oggi faremo degli investimenti sui supporti e le resistenze questa è la piattaforma di 24option allora vediamo un poco, io farò sempre investimenti sul petrolio metterò un minimo di 25 euro e vediamo la direzione è ribassista dovrebbe andare a ribasso allora io ho investito 25 euro nel punto un po' più alto quindi vediamo se il petrolio andrà a ribasso come vi ho detto i supporti e le resistenze o il supporto e la resistenza si sfonderà oppure rimbalzerà io andrò a vedere anche i grafici che può darsi che voglia invertire la direzione lo sapete però la direzione a quanto pare è ribassista quindi non ci dovrebbero essere problemi poi lo sapete, i 60 secondi il grafico cambia subito io investo altri 50 euro e vediamo se andrà bene allora il primo investimento da 25 è andato bene vediamo il secondo da 50 30 secondi alla scadenza adesso si sta rialzando quindi io riprenderei il petrolio può darsi che voglia cambiare direzione sembra che stia invertendo direzione io metto 100 euro per recuperare questi 50 e vediamo un poco aspettiamo un poco prima di investire sembra che voglia andare a rialzo io andrei per il rialzo quindi quando si creano queste situazioni di stallo dovete aspettare un attimo per vedere se questa situazione vedete questa situazione di stallo dovete aspettare un attimo per vedere se il trend scenderà oppure salirà per vedere insomma la direzione del trend il trend è ancora indeciso però sta salendo piano piano quindi io mi tengo pronta a reinvestire penso che la direzione sarà rialzista allora sì questo investimento è andato a buon fine allora io dico che andrà a rialzo perché ha cambiato direzione aspettiamo un attimo ok ho investito 25 euro allora vedete si sta rialzando quindi avevo ragione dunque riprendiamo il petrolio vedete in effetti si sta rialzando io metto sempre un importo di 25 continuo con 25 euro sempre per il rialzo allora 15 secondi per il primo allora il primo è andato vediamo il secondo mancano 30 secondi sta andando in alto come potete vedere allora io mi fermerei e vedrei un po' la situazione come andrà perché adesso c'è una resistenza in quel punto allora bisogna vedere se questa resistenza verrà sfondata oppure manderà il prezzo giù no a quanto pare andrà su allora io investo sempre per il rialzo sta andando a rialzo vediamo che cosa vuole fare può essere anche che voglia cambiare la direzione perché di solito quando arriva a un certo punto questi grafici cambiano subito direzione quindi bisogna inseguire la direzione quindi 15 secondi alla scadenza e no questa è finita in pari quindi stiamo un po' a guardare sembra che la direzione stia cambiando vediamo un po' 25 mettiamo 30 euro sì mi sembra che voglia andare al ribasso io investo per il ribasso sta andando al ribasso vedete come sta scendendo avevo ragione che ha cambiato la direzione vedete vedete come scende sta continuando a scendere voglio vedere se sfonda anche questo supporto io investo per il ribasso quindi quei 30 euro li ho presi allora io ho investito sempre per il ribasso e vediamo come andrà l'investimento sta andando al ribasso quindi ha sfondato il supporto grazie a tutti Grazie a tutti. Allora, l'ha preso. Aspettiamo. Sì, l'ha preso. Allora, io farei qualche conteggio. Oggi è giorno 28. Quindi ho investito solo sull'olio, sul petrolio. Quindi prima avevo fatto alcuni investimenti sul Dow Jones. Considereremo questi investimenti ultimi che ho fatto e vedremo un poco. Ne ho fatti uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto investimenti. Di cui ne ho perso soltanto uno e un altro è andato in pareggio. Quindi proviamo 17,50 euro più 70 euro meno 50 più 17,50 euro più 17,50 euro poi c'è il pareggio poi c'è più 21 euro perché ne ho investiti 30 più 17,50 euro più 17,50 euro un guadagno di 111 euro investendo sempre una somma minima e recuperando quando magari è andata male Allora è il bonus del 100% quindi potete accedere da qui per vedere ulteriori spiegazioni vedete 24 option è una piattaforma valida e comunque io la utilizzo molto spesso e ho visto che non fanno alcun problema quando ritiri i soldi eccetera l'unica cosa è che hanno levato i 30 secondi quindi prima c'erano i 30 secondi adesso non ci sono più quindi qui vi danno se vi iscrivete dal mio link vi danno il bonus del 100% oppure il conto demo di 1000 euro oppure potete chiedere per darvi i segnali dovete parlare sempre con l'account manager comunque ricordatevi di gestire sempre voi i vostri soldi quindi magari accettate consigli dai broker se vi fanno vedere una tecnica interessante però non accettate mai di investire quando lo dicono loro quindi cercate sempre di fare quello che volete voi perché i soldi sono vostri e li dovete gestire voi quindi io ho fatto alcune modifiche al sito nella pagina nella home page ho messo delle pagine vedete allora ho messo una pagina con tutti gli investimenti che ho fatto la domenica mattina per chi volesse visualizzare ho messo tutti i video e poi la tecnica dei supporti e le resistenze che ho appena utilizzato ho messo altri esempi così voi la potete capire meglio andiamo a visualizzare queste pagine non ho avuto il tempo di aggiornare il menu di sopra quindi potete accedere benissimo dall'home page allora questi sono gli investimenti che ho fatto la domenica mattina non ne ho fatti molti ho fatto solo 4 video per chi volesse investire anche la domenica mattina la tecnica è sempre di seguire la tendenza quindi è dei supporti e delle resistenze però è con una scadenza di un quarto d'ora perché la domenica mattina ci sono queste scadenze e qui se volete andate a vedere la tecnica ecco questi sono i video che vi ho messo poi invece ho messo ho spiegato meglio la tecnica dei supporti e delle resistenze che sarebbe questa e allora qui c'è la spiegazione qua sta anche nella sezione articoli un attimo che si carica la pagina allora qui ho messo la spiegazione la spiegazione tecnica della tecnica che può essere utilizzata sia con i 60 secondi sia con i 10-15 minuti qua potete scaricare il formato pdf e qua vi ho messo tutti gli esempi con i vari video quindi ho fatto parecchi video su questa tecnica è praticamente impossibile che non capiate questa tecnica l'unica accortezza è quella che dovete imparare a capire il trend perché non è una cosa facile a capire quando cambia e quando magari si ferma sta in fase di stallo e di congestione per poter capire il trend qui ho fatto un articolo vedete il nostro amico trend potete andare direttamente nella sezione articoli vi consiglio di andare meglio nella sezione articoli perché io non ho aggiornato il menu quindi andando nella sezione articoli voi vedrete i vari rettangoli con tutti gli articoli a disposizione per ogni articolo c'è il file pdf che potete scaricare infatti l'ultimo articolo è stato le nostre convinzioni riguardo ai soldi che purtroppo non ho potuto aggiornare ancora nei menu quindi se andate invece da qui lo potete trovare come articolo poi ho fatto l'aggiornamento anche sugli ebook allora per l'ultimo ebook che ho scritto le migliori tecniche per investire nelle opzioni binarie vi ho messo tutti i link ai vari capitoli così potete andare a visualizzare bene ogni capitolo di che cosa parla vedete questi link adesso funzionano e potete andare a vedere il video di che cosa dei vari capitoli questo è pubblicato da lulu in formato pdf sono le migliori tecniche per investire negli opzioni binarie volume 1 dove ci sono alcune tecniche nuove c'è la tecnica c'è una tecnica giornaliera nuova che non ho spiegato poi ci sono altre tecniche che io ho modificato che sono molto proficue sono molto semplici dal punto di vista di inserimento degli indicatori io naturalmente spiego come vanno utilizzati gli indicatori e l'esatto d'entrata a mercato e poi c'è l'ultimo capitolo che parla degli orari di trading quando bisogna investire perché gli orari di trading sono molto importanti è molto importante sapere l'apertura dei mercati quindi il momento giusto per investire in modo da non trovarsi in un trend congestionato in un mercato congestionato e quindi si rischia di sbagliare poi diciamo c'è la spiegazione dei pivot point che cosa sono le migliori tecniche per i pivot point come si calcolano questo perché c'è una tecnica che si basa appunto sui punti di pivot poi ci sono gli altri miei ebook per chi avesse bisogno di iniziare può iniziare con le opzioni binarie dalla A alla Z è una seconda edizione un ebook di 160 pagine e 7 capitoli la prima edizione invece era questa investire in opzioni binarie quindi questa è un'edizione molto più ampliata dove c'è scritto proprio tutto per chi volesse iniziare per il principiante quindi questo ebook ti mette in grado di poter iniziare a investire e poter riuscire a capire qualcosa sulle tecniche che io ho messo su youtube poi c'è piano d'azione per le opzioni binarie un altro ebook dove ci sono alcune tecniche di trading e c'è come si costruisce un piano d'azione per poter raggiungere un calendario di trading per poter raggiungere i propri obiettivi poi ci sono le grandi teorie per investire negli opzioni binarie dedicata a Dow a Fibonacci e a Elliot e vi faccio vedere come le loro teorie sono applicabili anche negli opzioni binarie era un ebook questo è un ebook molto importante perché chi fa trading deve sapere chi sono questi tre grandi personaggi tra cui Dow che ha inventato il Dow Jones è il padre dell'analisi tecnica senza di lui non ci sarebbe l'analisi tecnica quindi è molto importante da sapere poi c'è un altro ebook soluzioni pratiche per le opzioni binarie dove ci sono delle tecniche per investire negli opzioni binarie e qui potete sbizzarrirvi a trovare la tecnica che volete naturalmente ci stanno tutti i time frame su questo ebook c'è un capitolo dedicato anche alle correlazioni e qui c'è un capitolo dedicato ai gap poi c'è quest'altro ebook Fibonacci negli opzioni binarie un ebook dedicato sia a Fibonacci ma anche ai supporti e le resistenze alle trend line ai ritracciamenti al calcolo dei target price quindi qui abbiamo una spiegazione approfondita di tutto questo quindi chi volesse sapere di più sui supporti e le resistenze quindi questa tecnica che io ho spiegato anche potrebbe acquistare questo ebook che li farà capire un sacco di cose inoltre ci sono dei video che potete scaricare dal mio sito che vi insegnano come come settare le tecniche e vi faccio vedere come investire con queste tecniche ci sono tre tecniche nuove che vi fanno vedere come investire sia con le trend line e sia con con le tecniche di Fibonacci con i ritracciamenti allora e poi c'è l'ultimo che vi ho detto allora spero di esservi stata d'aiuto anche oggi al più presto farò qualche altro aggiornamento sì devo inserire altre pagine devo modificare il menu quindi per rendervi più facile la cosa vi auguro buon fine settimana ci rivediamo nel prossimo video ciao e grazie